Volentieri, vi ringrazio per questa celebrazione, per la vostra partecipazione, per la vostra attenzione e ringrazio anche chi l'ha permessa, chi l'ha accompagnata, il coro, i chiarichetti, i cerimonieri, potete immaginare davvero il lavoro e direi anche la passione con cui vengono preparati a questi momenti e a queste celebrazioni e tutto questo è importante che venga riconosciuto e che venga riconosciuto anche il bene che momenti come questi fanno al nostro cammino di fede. Io non ho dubbio che un momento come questo resta una di quelle stelle, di quei riferimenti importanti grazie alle quali il nostro cammino di fede può continuamente riprendere, riprendere esagio. Rinnovo gli auguri, l'augurio bello è quello che riceviamo proprio dall'Epifania del Signore e mi pare bello dirvi, ecco, così il desiderio è che il mistero di Gesù, di Gesù bambino possa davvero risplendere e brillare sempre nei nostri volti, nei nostri sguardi, nei nostri gesti e nelle nostre parole e questo è l'augurio bello che raccogliamo dal Signore che volentieri anche rivolgo ad ognuno di voi e altrettanto che volentieri su ognuno di voi invoco la benedizione del Signore. Sottotitico Sottotitico benedictum et hominemus quae in secuum adiutorium nostrum in nomine domini qui esi in cielo e terra benedicta vosso omnipotes Deus pater ete filius ete spiritus sanatus amén procedamos con pace di noi e Cristi amén 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 Grazie a tutti.